venerdì 19 febbraio alle ore 19 e 30 l'istituto superiore di scienze religiose san matteo di salerno in collaborazione con l'arcidiocesi di salerno campagna cerno ha promosso un incontro formativo rivolto a studenti ex studenti docenti irc operatori pastorali in particolare catechisti e formatori su il magistero sociale di francesco da laudato sì a fratelli tutti l'incontro mira a promuovere una maggiore conoscenza da parte degli operatori pastorali e degli insegnanti di religione cattolica sulle prospettive del magistero dell'attuale pontefice con la sua particolare attenzione agli ultimi e al ruolo di una chiesa pienamente coinvolta nei drammi del mondo una chiesa in uscita che sappia far vivere come esperienza del vangelo tanto la cura del creato la casa comune di tutti gli esseri viventi quanto la fraternità universale che chiama a superare distinzioni politiche religiose economiche e sociali mettendo al centro l'uomo nella sua dignità e nella sua sacralità a confrontarsi sul tema dopo i saluti del direttore dell'istituto superiore di scienze religiose san matteo don bruno l'ancuba la teologa lorella parente docente di teologia sistematica presso l'istituto san matteo e responsabile dell'ufficio arte e cultura dell'arcidiocesi di salerno e il sociologo francesco del pizzo docente di sociologia e di dottrina sociale della chiesa presso la sezione san tommaso della pontificia facoltà teologica dell'italia meridionale le conclusioni sono affidate a sua eccellenza monsignor andrea bellandi arcivescovo di salerno campagna e acerno l'evento formativo che si svolgerà in diretta facebook richiede la necessità di iscriversi attraverso il sito www.issr salerno.com che è il sito dell'istituto superiore di scienze religiose san matteo grazie a tutti